Buona giornata a tutti, qui vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Allora, prima di riprendere la trasmissione relativa alla percezione extrasensoriale e a quanto comporta rispetto all'argomento di questa sera, ricordiamo che sabato 24 febbraio ci ritroviamo al Bosco Sacro di Jesolo per celebrare il giorno pagano della memoria. L'ultima ora per arrivare sono le 17.30, proprio l'ultimo minuto perché poi si chiude tutto e si va via, per cui se arrivate un'ora prima, due ore prima, tre ore prima, meglio perché si può organizzare sul posto. Vi ricordo sempre a chi partecipa di portare i propri tamburi, i tamburelli o il proprio strumento per fare casino, cioè per fare rumore e di non portare tanto materiale perché dopo il rito a limite ci ritroviamo a mangiare una pizza in zona, in una pizzeria vicina. E la celebrazione del giorno pagano della memoria? Allora, una cosa che non ho mai detto in questi giovedì e che lo dico adesso, tanto dopo non lo dirò mai più per radio, fino al prossimo anno, è che le persone che parteciperanno alla celebrazione del rito pagano della memoria in realtà verranno molto caricate di energia. Perché? Perché avranno su di sé l'energia di tutte quelle persone che hanno agito, hanno lavorato per la libertà dell'uomo che si riverserà su di loro. Ora, dire che le persone verranno caricate di energia sembra una cosa positiva, allegra. In realtà lo è una cosa positiva. Però bisogna che ne capiamo il senso. Perché quando veniamo caricati di energia, dagli dèi o dalla libertà o dalla vita, se veniamo caricati di energia, ma quell'energia sono impegni, cioè sono obblighi, sono costrizioni che vanno verso la libertà dell'uomo. Per cui è vero che veniamo caricati di energia, però dobbiamo chiederci noi siamo disponibili, siamo pronti per fare quello che possiamo per la libertà dell'uomo, per la nostra personale libertà, per guardare in faccia la vita, per affrontare la vita per ciò che la vita è. Perché quando si riversa su di noi tutto ciò che è stato, c'è un certo peso, c'è un certo obbligo, un certo impegno. Ed è un impegno molto forte, molto feroce. Perché se voi pensate a tutte quelle persone che sono state massacrate, i cui nomi riempieremo la faccia del pianeta, dai cristiani, per imporre il loro Dio, e tutto quel dolore, tutta quell'energia, tutta quella ferocia, tutta quella rabbia, tutta quella determinazione per affrontare il futuro, o la disperazione del momento che vivevano, è stata tutta attorno a noi. E noi con quel rito la chiamiamo, la evochiamo. E quando un pagano politeista o chi pratica stregonaria evoca, significa far proprio, significa costruire una relazione empatica fra tutto ciò che è stato e ciò che noi siamo per ciò che noi faremo. Pertanto, anche se io ho tentato di organizzare il rito in maniera più leggera possibile e in maniera anche più giocosa possibile, cioè lasciando grandissima parte alla parte ludica del rito, quella parte ludica che in realtà ha anche questo alla sua importanza dal punto di vista magico e alla sua funzione. Al limite ve ne parlerò un po' cosa significa passare in mezzo al fuoco. però sta di fatto che noi stiamo evocando una storia, stiamo evocando duemila anni di storie. Per cui provate a rendervi conto cosa significa partecipare a questo rito. Significa mettere sulle proprie spalle duemila anni di storie e guardare al futuro qualunque esso sia che tutti noi comunque abbiamo con duemila anni di storie sulle spalle e noi diciamo questa è la nostra storia. Non so, provate un po' a pensarlo un po' lentamente e a immaginarlo fermando il dialogo interno cosa significa tutto questo. è per questo motivo che io ho detto alle persone se dovete scegliere fra l'uno e l'altro scegliete il rito dell'equinozio di primavera. Il rito pagano della memoria è un rito di impegno non indifferente ed è un rito di impegno spesso fra gli esseri umani nella vita sociale. Il rito dell'equinozio di primavera è più potente dal punto di vista della vita, dal punto di vista di Giunone dal punto di vista di Era ma è meno potente dal punto di vista di Ares e di Quirino e noi tutto sommato siamo dei Quirini siamo degli Ares siamo germinati da Irizia e andiamo verso Morse verso la nostra morte siamo figli dell'essere natura pertanto è più facile penetrare le emozioni con la natura che non penetrare le emozioni di tutto ciò che è stato nella vita sociale in ogni caso il giorno pagano della memoria viene istituito al fine di ricordare tutti coloro che furono massacrati dalle esigenze cristiane di imporre il loro Dio viene istituito per ricordare la distruzione delle società civili operate dai cristiani viene istituito per ricordare la necessità degli uomini e delle società di uscire dall'orrore dell'ideologia cristiana questo giorno vuole rendere onore a chiunque fu travolto dalla londa nera del cristianessimo questo giorno vuole rendere onore a tutti coloro che agirono per riportare l'umanità fuori dall'orrore dell'assolutismo cristiano vogliamo ricordare gli antichi popoli che furono massacrati dai cristiani e le antiche religioni che furono vilipese offese denigrate dall'odio cristiano antiche significa fino a ieri perché sto parlando anche delle civiltà africane sto parlando delle civiltà dell'America Latina sto parlando solo della romana della greca della celtica o di quant'altro sto parlando di tutte queste nazioni vogliamo ricordare tutti coloro che aiutarono le società civili ad uscire dall'assolutismo cristiano coloro che vennero chiamati eretici coloro che vennero chiamate streghe coloro che vennero chiamati ribelli e ringraziarli per aver messo la moneta della loro vita nel calderone della ricchezza umana li ricordiamo attraverso il fuoco il fuoco della conoscenza che ardeva in loro il fuoco della volontà che ardeva in loro il fuoco della libertà che ardeva in loro e ricordiamo questo fuoco antico per farlo ardere ancora attraverso noi perché i pagani non avranno un futuro se non ricorderanno il passato e vi ricordo di portare i tamburelli e i tamburi cioè quelli oppure gli attrezzi musicali per fare casino per fare rumore perché è importante il giro attorno al fuoco perché il giro attorno al fuoco è la chiamata del mondo e vi ricordo che chiamare il mondo è la cosa più importante che ci sia in questo rito ripeto come oggi e vi ho detto nella prima trasmissione verranno recitati due indi e naturalmente il rito è aperto per modificazioni successive che verranno stratificate sopra a questo rito e verranno a renderlo più complesso e più profondo dei due riti uno è il fuoco di vesta vesta è come la terra al di sotto di entrambe va il fuoco perenne la terra e il fuoco simboleggiano infatti la propria dimora tu per vesta non intendere altro che la fiamma che la viva fiamma vedi che dalla fiamma non è mai nato alcun corpo ma è il fuoco ad animare il corpo passione e volontà che dal corpo nascono ma è il fuoco che riscalla quel crogiolo di vita che la terra diviene quando giunone sorella di vesta natura imponente su di essa si stende e ne fa la sua sede vesta come la terra il mio corpo sia questa terra vesta il fuoco il mio cuore arda di questo fuoco che io possa essere il mio focolare la mia casa il mio rifugio giacendo giorno dopo giorno e mantenendo la viva e scopiettante la vesta che nel mio cuore risiede il fuoco di vesta ardeva Roma eternamente adesso bruci nel mio cuore ininterrottamente là dove nessun teodosio assassino arrivi mai a spegnerlo finché la mia volontà ne sarà la legna e come vesta si conservi per i sentieri nella vita e l'altro inno invece è siamo qui per ricordare ed è siamo qui per ricordare siamo qui per onorare siamo qui per fondare il fuoco fu spento sui sacri altari dopo che fu spento il fuoco che alimentava il mito e l'emozione abbandonò gli uomini tutto divenne forma tutto divenne parola l'illusione si impossessò dei sentimenti delle persone le loro orecchie diventero sorde gli uomini divennero barbari e gli animali stranieri tagete e numa orfeo e domero divennero ombre indistinte mentre terrori infernali uccisero le emozioni dell'uomo siamo qui per riaccendere il fuoco siamo qui per uscire dai terrori siamo qui per soffiare nuova vita nelle ombre che furono siamo qui per riascoltare il canto di orfeo siamo qui per ricordare siamo qui per riascoltare le armi degli dei sotto le mura di ilio siamo qui per onorare siamo qui per riaccendere il fuoco di numa e tagete siamo qui per fondare e questo è il senso del rito del giorno pagano della memoria è un rito che si sta costruendo un po' alla volta che diventerà un patrimonio della federazione pagana e dei pagani di questo paese il rito del fuoco che noi lo faremo e concluderemo il rito del fuoco attraverso il passaggio in mezzo al fuoco io ho sempre da farvi tutta una serie di pezzi relativi ai sacrifici umani come viene trattata nella Bibbia e che fra le altre cose uno di questi pezzi leggo un pezzo brevissimo prima di incominciare la trasmissione vera e propria dice fra le altre cose iniziamo col dire che fra gli antichi popoli della zona di cui gli ebrei una volta erano parte si svolgevano due riti religiosi che ne vennero centrale per comprendere la guerra fatta dagli ebrei per imporre il loro dio padrone il primo rito è un rito di iniziazione un rito proprio dell'antica popolazione medio orientale che consiste nel passaggio in mezzo al fuoco si tratta di una specie di battesimo del fuoco che rende l'individuo padrone del proprio futuro e come i riti antichi gli dei o un dio specifico erano chiamati ad assistere al rito il secondo rito è un rito di purificazione che avveniva mediante il fuoco un rito di sepoltura specifico per tutti i bambini bene andando avanti la condanna di Ezechiele del passaggio in mezzo al fuoco è feroce perché Ezechiele deve stuprare i bambini costringendo i ginocchi davanti al sud di assassino cioè non può Ezechiele accettare il fatto che il fuoco della vita possa ardere all'interno delle persone e dice Ezechiele sto parlando di Ezechiele 20-31 voi vi contaminate secondo i costumi dei vostri padri vi degradate andando dietro ai loro idoli e con l'offerta di vostri doni col far passare i vostri figli per il fuoco vi contaminate per rendervi favorevoli tutti gli idoli vostri fino ad oggi e io dovrei lasciarmi consultare da voi o gente di Israele Ezechiele 20-31 oppure ancora il pane che io ti avevo dato il fior di farina l'olio e il miele con cui ti nutrivo lo ponesti dinanzi a quelle statue il soave odore dice il Signore Dio non solo ma prendesti i tuoi figli e le tue figlie che mi avevi generato e li sacrificasti a quegli idoli in cibo ti parevano poco le tue prostituzioni immorasti i miei figli facendoli passare per il fuoco in loro onore cioè tutta la guerra che il macellaio di Sodoma e Gomorra scatena contro le popolazioni vicine contro le religioni dei suoi stessi padri perché vi ricordo che Ezechiele costruisce Ezechiele e gli altri costruiscono la farneticazione del monoteismo a Babilonia dopodiché quando tornano in Israele quando tornano in Palestina devono imporla agli altri ebrei che stanno continuando nella loro vecchia religione la religione dei padri a seguire Baal per cui anche a fare il passaggio della gioventù cioè la gioventù dei figli attraverso il passaggio del fuoco il passaggio all'interno del fuoco è il passaggio per cui un ragazzo diventa giovane e entra a far parte della società è un rito di iniziazione è un rito di sacralità e Ezechiele fa questa guerra questo rito di sacralità ebbene noi praticamente col passaggio in mezzo al fuoco abbiamo ripreso il rito di sacralità degli antichi proprio in onore degli dei che poi abbiamo esteso diciamo così a tutte le altre divinità di cui noi abbiamo amore e abbiamo passione bene allora andiamo avanti con la trasmissione di questa sera l'appuntamento dunque è per sabato 24 marzo con il rito del giorno pagano della memoria 24 febbraio scusate con il rito del giorno pagano della memoria e il discorso di questa sera invece che facciamo continua con la percezione extrasensoriale e nella percezione extrasensoriale trattiamo le basi nervose dell'empatia e l'esperienza mistica praticamente cosa succede? succede che tutti noi abbiamo delle esperienze mistiche cos'è un'esperienza mistica? è un trasporto emotivo verso oggetti esterni alla nostra esistenza ripeto un trasporto emotivo verso oggetti diversi della nostra esistenza cioè di noi stessi ora qualcuno può indirizzarla verso delle illusioni tipo il dio padrone tipo la madonna tipo tutta una serie di cose ma in realtà queste esperienze mistiche sono sollecitate e intervengono in parti precise del cervello da oggetti materiali esistenti cioè noi siamo parte di un insieme e siamo divenuti all'interno di quell'insieme che poi la ragione ci separi da quell'insieme quello è un altro discorso ma i nostri geni sono in comune con i geni della mosca della frutta sono in comune con i simpanzè sono in comune con le piante sono in comune con le formiche cioè noi siamo legati al mondo in cui noi viviamo e col mondo in cui noi viviamo noi abbiamo dei trasporti emotivi abbiamo delle relazioni empatiche ebbene l'esperienza mistica non è altro che flussi emotivi di relazione empatica col mondo che poi le persone trasformano in visioni in suogia attraverso tutto quell'apparato che poi la psichiatria analizza perché da là provengono anche le allucinazioni provengono anche una serie di cose perché quell'apparato in realtà esiste noi possiamo avere l'allucinazione o la visione l'una e l'altra dipendono dalla disciplina e dall'energia e dal potere che ha una persona però il meccanismo è lo stesso ora cosa interessa a me interessa sapere questo problema del trasporto emotivo soggettivo e personale prima di tutto è reale cioè il mondo che io ho attorno è in grado di pensare di agire di emozionarsi al punto tale di coinvolgere le mie emozioni e qua devo dare la risposta e però la risposta qui la do attraverso la ricerca tipo Lawrence tipo la ricerca sugli animali tipo la ricerca sulle piante sulla sensibilità e la seconda domanda che devo farmi io sono in possesso di un apparato mentale di un apparato nervoso di un apparato emotivo capace di andare oltre la forma e la quantità che è data dalla mia ragione queste sono le due risposte che devo darmi primo se esiste un mondo che mi invia segnali intelligenti cioè finalizzati e se esiste dentro di me qualcosa che può percepire quel tipo di segnali o che può essere sensibile a quel tipo di relazioni queste sono le due cose che io devo individuare dopodiché una volta che la scienza mi individua queste due cose il fatto che io le usi o non le usi o sia in grado di aumentarne l'uso questo dipende dalla mia pratica di stregoneria cioè da quanto io sono in grado di sviluppare ciò che ho dentro di me ma io perché si verifichi la situazione per cui io posso avere un'esperienza mistica di relazione fra me e il mondo devo stabilire se esistono queste due condizioni dopodiché posso dire l'esperienza mistica che ho io in relazione col mondo corrisponde ad oggetti reali o diventa semplicemente simbolica perché agli oggetti reali io sostituisco la mia immaginazione ma questo è un altro aspetto ancora cioè in pratica c'è qualcuno che ha un'esperienza mistica e vede la madonna ora la madonna non esiste non è un oggetto in sé pertanto l'esperienza mistica è data da altri fattori che il suo condizionamento educazionale trasforma in effetti visivi cioè in effetti allucinatori attraverso la visione della madonna però a me interessa non è che interessa sapere gli effetti del condizionamento educazionale o della manipolazione mentale delle persone quello lo tratto in un'altra parte lo tratto in un altro ambiente a me mi interessa stabilire se c'è la possibilità che gli oggetti del mondo invieno segnali emotivi a me e se io posso o la scienza ritiene che sia possibile anche se magari non l'ha ancora scoperto però come possibilità che io possa ricevere quei segnali trasformarli e avere quelle esperienze mistiche queste sono le due cose che mi interessano dopodiché torno a ripeto parliamo di stragoneria cioè dopodiché parliamo di come usiamo questo tipo di strumenti in relazione col mondo e là esiste il crogiolo dello stragone che vi dice come si sviluppano e come si interpretano però questo appartiene alla stragoneria quello che ci interessa stasera è stabilire se esiste questa possibilità le basi vi ricordo sempre che questi pezzi sono tutti in internet e sono all'interno della percezione extrasensoriale questa è percezione extrasensoriale 5 e delle o 6 6 mi sembra che sia le basi nervose dell'empatia e l'esperienza mistica si aprono continuamente nuovi campi di ricerca scientifica la percezione degli individui anche quando esula dalla normalità diventa oggetto di studio d'analisi scientifica si vuole indagare che cosa succede nel cervello della persona quando la persona afferma di fare o percepire cose inusuali quando la scienza accumula un numero di testimonianze sufficienti riconosce l'esistenza di fenomeni che lei non conosce la scienza dunque indaga quando le testimonianze si accumulano allora siamo in presenza della necessità della scienza di riconoscere le basi biologiche dell'empatia la capacità dell'uomo di percepire il mondo senza la necessità di descrivere i fenomeni ciò che la scienza sfugge è sempre una vecchia questione l'organizzazione della scienza organizzare la ricerca della conoscenza il ricercatore separato dal soggetto su cui compie la ricerca la scienza agisce sempre su topi del laboratorio analizza e seleziona oggetti statici lo scienziato è giudice di una situazione lo scienziato analizza cosa succede nel cervello in chi prova quelle sensazioni non è lui stesso a provare quelle sensazioni chi prova le sensazioni è un soggetto immerso nella vita nelle contraddizioni dell'esistenza lo scienziato si separa da queste per poter ricercare nel far questo lo scienziato studia l'empatia dell'altro l'altro gli racconta che cos'è la sua capacità empatica e lo scienziato dice in questo momento vengono sollecitati questi o quei neuroni c'è il passaggio del segnale dal talamo alla corteccia cerebrale però non riesce a percepire la sensazione di chi quelle sensazioni quelle emozioni quelle percezioni sta vivendo per cui non può capire la pratica d'insieme del soggetto che gli permette di innescare la propria empatia non conosce l'intensità della percezione empatica non conosce le possibilità del soggetto di usare quelle percezioni nel suo quotidiano così lo scienziato ha accumulato una serie di testimonianze che dimostrano che esiste quella sensazione ma non sa che cosa sia però dimostra che quando il soggetto ha quella sensazione qualora succede nel suo cervello lo scienziato non sa che cosa succede nella sua mente nella sua coscienza nella modificazione della sua capacità di percezione del mondo lo scienziato registra non sa come quella specifica sensazione si esprime in quell'individuo mentre non si esprime in maniera coerente nello stesso modo in altri individui così a volte anche se il ricercatore definisce l'oggetto della sua ricerca non sa nemmeno che cosa sta cercando dalla repubblica del 24 marzo 2003 ora studiamo le basi nervose dell'empatia Roma gli ultimi anni hanno visto progressi enormi nel campo delle neuroscienze ma il mistero resta Salvatore Agliotti è neuropsicologo all'università della sapienza di Roma quanto più si progredisce dice tanto più aumentano i misteri perché cresce la complessità delle funzioni che è possibile studiare domanda che cosa è cambiato in questi anni nello studio del cervello e vi ricordo che siamo nel 2003 l'armamentario strumentale delle neuroscienze si è affinato al punto tale che oggi per la prima volta nella storia dell'uomo è possibile studiare con approcci scientifici dei soggetti che una volta erano proibiti come la coscienza e certi aspetti complessi delle emozioni le neuroscienze hanno iniziato a porsi problemi che una volta rientravano nel dominio della filosofia o della psichiatria fenomenologica domanda qual è una delle frontiere delle neuroscienze cognitive un settore un settore di frontiera è senz'altro quello della cosiddetta social cognitive neuroscienza neuroscienza socio-cognitiva in cui si inizia a studiare che cosa accade nel cervello di una persona quando entra in contatto col cervello di un altro facciamo un esempio A e B sono uno di fronte all'altro e stanno parlando quando A gira gli occhi in una certa direzione a quel punto B inizia a tendere lo sguardo nella stessa direzione e poi comincia a formulare delle ipotesi sul perché A ha girato gli occhi e quindi su che cosa c'è nella mente di A in pratica si tratta di studiare il modo in cui interpretiamo gli stati mentali degli altri analizzando i loro comportamenti si comincia a studiare ad esempio le basi nervose dell'empatia domanda si parla anche di studi sulle basi biologiche dell'esperienza religiosa con mille cautele ma la comunità delle neuroscienze ha cominciato a chiedersi se un'esperienza religiosa corrisponde dell'attivazione di determinate aree del cervello e di fatto corrisponde sebbene non si possa parlare di rapporto causa-effetto ma solo di correlazione ci sono dati che suggeriscono che indipendentemente dalle credenze religiose individuali la stimolazione di certe aree del cervello fa provare sensazioni che ricordano dal punto di vista fenomenologico le esperienze dei grandi mistici del passato domanda la coscienza perché viene definita come l'ultimo mistero perché non si sa neanche come studiarla in che termini parlarne nello studio dell'universo ci sono mille cose non scoperte ma il paradigma è chiaro nel caso della coscienza non si sa nemmeno che cos'è dunque entrare in contatto con il cervello di un altro o un'esperienza religiosa portano ad attivare aree precise del cervello la scienza questo lo può leggere può leggere l'attivazione dell'area cerebrale quando noi siamo in sintonia con qualcuno spostiamo lo sguardo mettiamo attenzione in cose diverse sincronizziamo la nostra attenzione o addirittura quando sintonizziamo il nostro corpo e la nostra psiche su quello di un altro o quello degli oggetti del mondo che ci circondano quando abbiamo un'esperienza religiosa nella quale entriamo in sintonia con il sacro che ci circonda e che fa vibrare il sacro dentro di noi il ricercatore vede attivarsi delle connessioni cerebrali questo fiume di emozioni che fuoriesce dai nostri sentimenti e avvolge il mondo circostante è un atto di magia un atto di magia che si fissa nell'individuo trasformandone nel modo attraverso il quale guardare è rapportarsi con il mondo la scienza dice di poter capire che ad un'esperienza religiosa corrisponde l'attivazione di aree precise del cervello ma la scienza afferma anche che se si attivano quelle stesse aree del cervello non si ha quell'analoga esperienza religiosa ciò tuttavia si produce qualche cosa nell'individuo un'altra esperienza c'è una correlazione fra l'attivazione dell'area cerebrale e l'esperienza mistica o l'esperienza di sincronicità col mondo ma dice la scienza è necessaria l'esperienza mistica o la sincronicità col mondo perché questa si fissi nell'individuo non basta attivare la medesima area cerebrale per ottenere il medesimo effetto dice la scienza ci sono dati che suggeriscono che indipendentemente dalle credenze religiose individuali la stimolazione di certe aree del cervello fa provare sensazioni che ricordano dal punto di vista fenomenologico le esperienze di grandi mistici del passato fa provare sensazioni che ricordano ma se l'individuo prova l'esperienza di mistici certamente attiva quell'area cerebrale solo che in più fa gocita quell'esperienza che egli stesso ha cercato coltivato in posto attraverso la sua azione se si attiva l'area si ha la sensazione ma se si ha l'esperienza questa si fissa in noi attivando l'area attraverso le nostre sensazioni ed è la differenza fra l'uomo religioso e colui che ha avuto mille allucinazioni l'uomo religioso ha fagocitato la propria esperienza nella relazione tra sé e il mondo circostante ha trasformato questa esperienza in conoscenza da trasmettere chi prova allucinazioni trasmetterà soltanto le sensazioni allucinatorie che ha provato eppure probabilmente entrambi hanno attivato la stessa area cerebrale bene questo è ciò che ci dice il laboratorio scientifico ma esistono altre cose che ci vengono dette proviamo a vedersi un attimo dalla repubblica del 9 marzo 2006 Siena un laboratorio studierà il linguaggio verde i ricercatori lo fanno per sopravvivere scopriremo un mondo inesplorato piante le radici sono intelligenti ragionano si difendono comunicano caccia ai segreti degli alberi cioè in pratica si sta scoprendo che non solo gli esseri umani hanno empatia ed emozioni ma anche le piante hanno empatia ed emozioni a parte il vecchissimo libro la vita segreta delle piante che dovevo aver letto circa un 20 anni fa ma ormai sempre di più i scienziati si stanno accorgendo che esistono delle capacità di adattamento soggettivo alle variabili oggettive da parte delle piante che è un qualcosa di spaventoso cioè quella storia che ha riportato Celi nel suo libro la storia delle acace spero di non sbagliare albero e delle antilopi praticamente il discorso penso averlo già fatto in questa radio in Sudafrica c'è una specie di antilopi che stavano per scomparire e allora per proteggerle dai predatori si è deciso di fare un recinto in cui le antilopi potessero stare dentro e siccome gli antilopi si nutrono di foglie di acace essendoci molte piante di acace là dentro pensavano che tutto fosse a posto dopo qualche mese le antilopi sono morte tutte allora è stata fatta un'analisi un'inchiesta perché queste antilopi sono morte pur avendo tante acace a disposizione e nello stomaco si è trovato che effettivamente avevano mangiato foglie di acace con un piccolo problema le acace hanno la capacità hanno scoperto che hanno la capacità di comunicare cosa vuol dire? vuol dire che quando le antilopi si avvicinavano una pianta di acace e mangiavano quelle foglie però quella stessa pianta mandava alle altre acace l'allarme cioè l'avviso che c'erano antilopi in giro che stavano mangiando le foglie le altre piante di acace a quel punto cominciavano a produrre grandi quantità di tannino che entrava in circolazione nelle foglie le quantità di tannino presente nelle foglie rendevano le foglie di acacia indigeribili per le antilopi ora se non ci fosse stato il recinto le antilopi avrebbero potuto galoppare abbastanza distante per raggiungere le piante d'acacia che non avevano sviluppato il tannino ancora mentre essendo richiusi in recinto il segnale e la comunicazione delle piante di acacia di essere aggredite dalle antilopi aveva fatto il giro di tutte le piante del recinto per cui tutte le piante del recinto avevano provveduto a riempire le loro foglie di grandi quantità di tannino risultato le foglie di acacia pieni di tannino erano indigeribili tutte le antilopi sono morte di fame con lo stomaco pieno di foglie di acacia pertanto stiamo attenti a pensare che le piante non discutono o non trasmettano o non comunicano perché se sono in grado di comunicare un segnale come questo vi ricordo che possono comunicare anche un pensiero astratto perché a noi non ce ne frega niente del pensiero astratto ci interessa di più la meccanica delle antilopi morte di fame però come si può comunicare questo si possono comunicare anche pensieri astrati dopodiché noi faremo finta anche di non vederli però le nostre emozioni arrivano e arrivano come segnale e dopo noi quel segnale che percepiamo nello stato profondo nel nostro cervello delle nostre emozioni lo trasformiamo in immagini lo trasformiamo in sensazioni che arrivano alla coscienza questa forma di immagini di suono di credevo di intuizione oppure anche gli animali si divertono così il piacere contagia tutti avevo già parlato del principio del piacere il principio del piacere che è l'elemento fondamentale della vita ne parlò già Epicuro con i filosofi del giardino e in realtà Epicuro aveva ragione e tutti gli altri avevano torto anzi veramente tutti gli altri erano i pezzi di merda perché lo hanno anche preso per i fondelli oltretutto specialmente i cristiani tanto per non cambiare gli animali si divertono così il piacere contagia tutti i pesci uccelli rettili ognuno ha il suo modo di stare bene talvolta simili a quelli dell'uomo un libro gli spiega qui c'è no a vari i lemuri uccelli scimpanzee gatti iguana a parte il fatto che chi non ha mai giocato col proprio gatto chi è un gatto sa benissimo quanto si diverte il gatto a giocare e bande di scimmie anche che fanno le loro operazioni sociologiche cioè in pratica si sta scoprendo che gli animali hanno una loro sociologia hanno una loro sociologia hanno le loro emozioni trasmettono segnali segnali che noi recepiamo con la nostra parte antica del cervello e trasformiamo in intuizione trasformiamo in visioni trasformiamo in suoni anche gli insetti nel loro piccolo si divertono i più giocarelloni sono le vespe appena nate fanno cose del tutto inutili e si sta scoprendo che tutto un mondo è paese diceva qualcuno parlando degli uomini e perché non usiamo la stessa affermazione parlando di tutte le specie animali dicendo che tutto il mondo è paese cioè tutti cercano il piacere della vita se qualcuno noi lo possiamo osservare diciamo fa cose inutili qualcun altro invece lo osserviamo diciamo fa delle cose che capiamo perché le fa no? per una vita abbiamo visto gli scarabèi stercorari a fare pallottole di cacca no? e spostarli per gli egiziani erano sacri e avevano ragione gli egiziani però non abbiamo mai capito quanto ci si diverte a mettere il suo a mettere il suo uovo dentro la pallina di cacca e far nascere altri figli lo scarabèo stercoraro se non siamo in grado di vedere il divertimento degli altri se non li guardiamo con le nostre emozioni e con la nostra parte ludica che abbiamo dentro oppure adesso anche gli animali hanno un'anima per un italiano su due sono come l'uomo secondo una ricerca il più simile è il cane cioè un italiano su due pensa che gli animali hanno un'anima ora io ho un l'articolo dei gesuiti di un dodici anni fa circa in cui si buonavano contro chi pensava che gli animali avessero un'anima in realtà adesso le persone lo pensano ma perché lo pensano cosa è cambiato non è cambiato assolutamente niente semplicemente un numero maggiore di persone ha imparato a osservare con più attenzione il mondo che gli sta attorno e ha imparato ad osservare che piante animali insetti hanno delle vere e proprie strategie di esistenza hanno delle passioni di vita in pratica è come se gli uomini avessero cominciato a guardare il mondo che li circonda con occhi leggermente diversi da come era prima e così scoprono che in fondo tutti hanno un'anima un'anima che poi non è altro che la nostra parte emotiva non è altro che la nostra parte sacra non è altro che il Dio che costruiamo dentro di noi sia che siamo uomini elefanti tartarughe vespe scorpioni lombricchi vermi virus batteri sulle nostre mani ci sono centinaia di specie di batteri su nostra pelle senza di loro non viviamo noi stessi siamo una colonia di batteri modificati ci pensiamo grandi personaggi al centro del mondo creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino ebbene ognuna delle nostre cellule è un'intelligenza ognuna delle nostre cellule comunica ognuna delle nostre cellule vive per sé e in sé ma noi siamo creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo cretino ed efficiente vabbè cosa volete che vi dica alla pazzia non c'è non c'è rimedio comunque l'importante è che noi sappiamo che tutto il mondo che noi abbiamo attorno è un mondo vivente quando dai microfoni di questa radio no eravamo nel 1900 credo il 97 98 adesso non mi ricordo esattamente l'anno vi ho fatto il testo il crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo uno dei capitoli fondamentali del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo lo potete scaricare in internet sono i quattro canti del mondo cioè il fondamento della stregoneria si regge sui quattro canti del mondo che cosa sono i quattro canti del mondo in pratica se io vedo il mondo come forma e come quantità anche un cane un albero un virus vede il mondo come forma come quantità se io ho una struttura emotiva anche il cane il virus e il batterio ha una struttura emotiva e allora i quattro canti del mondo non sono altro che l'interazione fra la visione che c'è del mondo noi stessi con gli oggetti del mondo attraverso le nostre specifiche ragioni attraverso le nostre specifiche emozioni e attraverso l'intersezione di ragioni e di emozioni e questo è un discorso che vi ho fatto ancora nel 1998 per tanto quando il mondo parla a noi nella selezione della percezione ve l'ho fatto questo non tutti i fenomeni rientrano nella nostra coscienza molti sono a livello di subconscio ed entrano però nella nostra capacità emotiva nella nostra capacità di percepire il mondo e allora parliamo spesso si parla di istinto si parla di subcosciente si parla di memoria taviche si parla di robe strane ma in realtà è un altro modo di percepire il mondo che se noi abbiamo abbastanza disciplina riusciamo a farlo emergere dalla coscienza e questo di questo la scienza comincia a prenderne atto e d'altronde la stregonaria è una cosa reale non è una cosa fittizia non è al di fuori della vita non è il dio dei cristiani che è il dio trascendentale fuori dal mondo la stregonaria è l'arte attraverso la quale noi viviamo 049 700 700 e 049 700 838 torno sul discorso che ho fatto oggi relativo al fatto che le persone mi dicono tu chi sei io ormai sono una persona che ha una certa età non sono un ragazzino ormai ho i capelli quasi bianchi e sono ormai prossimo alla pensione al di là se la prenderò o non la prenderò per cui ho fatto esperienza e ho fatto esperienza profonda e ho fatto esperienze dinamiche nella mia vita e spesso ho fatto una quantità di errori o una quantità di scelte per le quali le ho pagate anche care se io non avessi fatto tutta questa esperienza nella mia vita non avrei mai potuto cominciare una via alla stragoneria o sapere che cos'è la stragoneria perché gli dei non mi regalano niente e se effettivamente padre Zeus è quel gigante che ha vinto la titanomachia e che contro i titani si è permesso di costruire la vita su questo pianeta prima del padre Zeus c'è padre Crono ma prima di padre Crono c'è un altro gigante ed è Urano stellato pronto ciao 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 dimmi niente ho sentito come al solito cosa che ti dite a 100% e voi avete una notizia mi sono mai dire un po' dimmi non so se ho sentito per te giornali altra sera sarà 4-5 giorni che la mamma cacopà per fio a Verona o quest'altro 6 mesi ah quello che ho capito quello è a sud ha detto che c'era la posseduta ah che è quella lei o lui a fio 6 mesi la mia 6 mesi era posseduta questa non la sapevo comunque l'altra che è andata fuori a testa no dopo ti dici i preti non vai in galera questi qua continuano a coppare figli li metti in galera no esatto diciamo che indirettamente gli ha uno stilicidio le colpe sta gente qua che che si è spaventoso cioè cosa fanno loro quelle loro cagate è una cosa infame e si e si cioè ti dico mi ha detto oggi pomeriggio che sono un po' infervolato ma ti prova a pensare una roba se a Roma gli fosse un attentato dinamitardo no che ammazza 27 persone e ne ferisce gravemente 18 perché i mancati suicidi sono tutti feriti non pensi che saria titoli online polizia e la libertà magistratura giornalisti alla caccia che saria tutti che si muove sì ma perché qui sta un effetto nel bellunese nel bellunese il rega copà 27 non gli le fotte un cazzo a nessuno si ripinano pure per il culo esatto perché il suicidio il suicidio invita la derisione se non altro al compattimento adesso non altro la derisione ma è colpa del suicida fino a 30 anni fa è colpa del suicida anche adesso io compattisco mi parlo sempre della gente con pensiero diciamo ancora è tu capito? sì ma lo so cos'è il suicida lo dice anche qua Ilman sul suicidio dell'anima cioè il suicidio mi invito veramente l'edere è ben questo qua non so insomma il gesto lo fa la persona stessa però la mano che lo spinge diciamo sopra il ponte c'è altra certo c'è altra lo saremo tutti va bene devo chiudere la trasmissione ormai sono fatto la trasmissione ciao ci sentiamo ciao ciao bene io chiudo qui la trasmissione di magia stragoneria paganesimo adesso c'è l'altro speaker dopo di me e vi do appuntamento per giovedì prossimo vi ricordo che domani è che sabato ci avviciamo al rito ciao e l'altro e l'altro e l'altro e l'altro